bella a tutti fourniters benvenuti su youtube eccoci qui con la terza missione di stracci o stracci chiamatelo come volete raccogli pietra dalle rocce del viceversa allora il viceversa è quella palla che la vediamo nella mappa eccola qui dobbiamo entrare dentro e raccogliere la roccia quanta abbiamo detto quanta roccia 50 di roccia di armiamoci non dobbiamo distruggere le case perché quella roccia non conta dobbiamo proprio distruggere le rocce tipo queste però sono quelle che sono dentro il viceversa ora vediamo se riusciamo subito a trovarla eccola qua ok qui per fortuna non si muore questa qua ok quindi iniziamo a colpirla siamo a 35 ok adesso ne devo trovare un'altra non la trovo intanto apro ancora una cassa e lascio mi lagga eccola qua ecco qua missione semplicissima lo vedete completata non è per nulla difficile se questo video vi è piaciuto cliccate mi piace iscrivetevi al nostro canale continuate a seguirci cliccando la campanellina un saluto a tutti ciao